Campionato di giornalismo, cronisti in classe. Eccoci qua, allora, cronisti in classe, un altro appuntamento per il campionato di giornalismo della nazione che vede coinvolte le scuole medie della provincia di Pisa. Oggi invece è un derby, tutto all'interno del capoluogo, infatti si affrontano la scuola media, seconda B, Toniolo e la scuola media, sempre seconda B, Santa Caterina. Entrambe le scuole appunto sono di Pisa. Cominciamo dalla Toniolo, dalla Toniolo il dirigente scolastico è Andrea Serani, il docente e tutor è Giorgia Arrivo. Ci si occupa delle periferie, un argomento sensibile, molto caro ai lettori della nazione. Pisa, lavori in corso, il centro si rinnova, ma le periferie, i residenti chiedono più attenzione. L'11 febbraio di quest'anno, dopo dieci anni di lavori, è stata finalmente inaugurata la piazza Vittorio Emanuele, scrivono i ragazzi, che assume una forma ovale al cui centro si erge la statua dedicata al re d'Italia. Andrea Serfoglia, assessore ai lavori pubblici, ha affermato che la piazza sarà interamente pedonalizzata e l'accesso consentito soltanto ai mezzi pubblici. Il parcheggio sotterraneo invece è stato inaugurato il 28 maggio 2010 e si tratta di una struttura di tre piani contenente 283 posti auto. Oltre alla piazza, in questo periodo Pisa si sta mobilitando per la ristrutturazione e valorizzare alcuni edifici pubblici e aree del centro storico. Qui vado un po' più veloce, la Domus Mazziniana, il Laboratorio Fibonacci, Corso Italia, Piazza dei Cavalieri, eccetera. Ma si chiedono i ragazzi, cosa ne pensano i cittadini di questi lavori? Secondo noi tutte queste iniziative sono certamente importanti per lo sviluppo della città, sia per quanto riguarda la promozione del turismo che per la crescita degli altri settori del terziario più avanzato, come l'Università e la Ricerca. A nostro avviso questi interventi sono molto utili perché rendono più bella ed efficiente la città, con vantaggio non solo per le molte persone che ogni anno vengono a visitarla, ma anche per i cittadini stessi. Però chiedono anche più attenzione per le periferie e lo chiedono i cittadini che abitano in queste zone, che a volte danno vita a manifestazioni per denunciare alcune situazioni di degrado. Un esempio è quello del CEP, dove una vicenda abbastanza travagliata inizieranno i lavori per la realizzazione entro il 2013 dei cosiddetti campini, cioè una struttura sportiva comprendente un campo da calcio con tribuna e due palestre, il tutto affiancato da parcheggio e area verde. Poi l'articolo si conclude e noi ci auguriamo che questo esempio possa essere seguito da altre iniziative di riqualificazione delle periferie della nostra città, perché crediamo che uno sviluppo equilibrato sia giusto per dare gli stessi diritti ed opportunità a tutti i cittadini. Caro diario, che cosa è cambiato invece? È la storia, è l'altro titolo che ci regalano i ragazzi nell'altro articolo ed è carino. Caro diario, Pisa, 15 marzo 2032. Caro diario, dopo molti anni di assenza sono tornata a Pisa, la città dove sono nata. Ho trovato una città molto diversa da come la ricordavo, molti spazi verdi e strani laboratori tecnologici connessi alla rete. La nuova Pisa mi piace, anche perché ora è molto più pulita e non si vedono più quei sacchetti dell'immondizia che una volta la rovinavano. Anche i turisti sono più felici, soprattutto da quando nella Torre Pendente è presente un ascensore nascosto che senza farle perdere la sua bellezza permette ai visitatori di risparmiare fatica. Bellissimo questa proiezione nel futuro di come vedono i ragazzi la città. Nelle scuole i ragazzi non usano più i libri ma le tavolette elettroniche. Tutte le aule sono fornite di apparecchiature informatiche fornite dallo Stato. Un'altra novità è che ogni appartamento ha un giardino. A partire dal 2025 il Comune ha promosso il progetto Orto Industriale, un'iniziativa proposta per aumentare la produzione e consumazione di cibi più sani. Il nome del progetto viene dal fatto che le industrie sono state chiamate a partecipare coltivando i propri orti e cercando di inventare delle nuove verdure e frutti ottenuti con l'insieme di vitamine e sali minerali già contenuti in altre piante esistenti. Nonostante tutte queste novità devo dire però che una cosa è rimasta sempre la stessa. I monumenti e le opere d'arte che continuano ad incantare per la loro bellezza e fanno della nostra città una cosa unica al mondo. Bellissimo, quest'articolo della Pisa del 15 marzo 2032 è straordinario, veramente molto 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 bello. Si chiude invece la pagina della seconda Bittoniolo con Smart City, la mobilità del futuro, l'Unione Europea scommette sull'efficienza energetica. Passiamo invece alla pagina della scuola media, la seconda Bist Santa Caterina ci si occupa di alimentazione, non sono i primi a farlo ma sono i primi invece ad occuparsi del gas, ovvero dei gruppi di acquisto solidale, una scelta in difesa dell'uomo e dell'ambiente. Quanti di voi sono rimasti delusi addentando una mela bellissima, lucida e rossa, ma priva di sapore? Vi è mai capitato di mangiare pomodori al gusto di plastica, ortaggi insipidi e frutta indefinibile? E che dire di quelle buste di insalata prelevata o delle verdure precotte dall'aroma di bicarbonato? C'è chi ha detto basta, al modo più diffuso di fare la spesa. Nella nostra società, dai ritmi sempre più convulsi, in cui provvedere all'approvvigionamento alimentare è diventato quasi una perdita di tempo, una necessità da assolvere nel modo più rapido possibile. Scorre al supermercato una volta alla settimana e si riempie il carrello di Cibari, senza interrogarci molto sulla loro provenienza e sui criteri della loro produzione. È possibile sottrarsi, almeno in parte, a questo modo di comprare e di consumare? Una risposta viene dai gas, i gruppi di acquisto solidale. Insomma, si tratta di un insieme di persone che decidono di incontrarsi per acquistare prodotti alimentari da ridistribuire tra loro. Gli altri due pezzi dei ragazzi della seconda bis Santa Caterina, invece, sono coltivare secondo natura l'agricoltura biologica, la storia, l'imprenditore Banti viene intervistato, prodotti locali e filiera corta per un'opzione responsabile e poi i perché, la svolta del comprare insieme, come è strutturato e come è organizzato un gas. Bene, questo un po' a corsa quest'oggi era anche la pagina della seconda B della Scuola Santa Caterina. Il prossimo appuntamento sarà martedì prossimo con i cronisti in classe della Nazione. Campionato di giornalismo, cronisti in classe.